allora possibile ritorno di fiamma della roma su granicciaca nelle ultime ore se ne sta parlando veramente tante quindi siamo qui per parlare anche di calcio mercato della roma prima di iniziare mi raccomando intanto ciao e bentrovati iscrivetevi al canale cosa importantissima mi raccomando e di conseguenza attivate la campanella così non vi perdete i miei contenuti che si aggiornano ogni giorno sul canale escono nuovi contenuti quindi basta che cliccate sulla notifica che vi arriverà lasciate un bel like se volete di supporto e ovviamente la vostra opinione è molto 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 importante quindi commentate qua sotto nei commenti e fatemi sapere cosa ne pensate allora lo sappiamo la tarantella che c'è stata in quest'estate da quando arrivato a morigno che voleva fortemente il calciatore dell'arsenal dove cui abbiamo preso comunque questo mercato di riparazione ma i tran niles che comunque è un giocatore molto utile che sta facendo comunque bene sta dimostrando comunque di essere un giocatore semplice che può crescere e trovare magari maggiore maggiore sicurezza in sé e poi da questo importante forte bello proprio di sergio oliveira che sta rivoluzionando praticamente il centrocampo della roma insieme a lui potrebbe arrivare un compagno di reparto che granicciaca allora e cosa vi devo dire la mia me la devo ridire dopo le trattative di quest'estate per me è un grandissimo sì xaga sicuramente non è un top player però è un giocatore molto 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 funzionale che secondo me nella roma di morigno un giocatore come come vuole proprio morigno infatti lo sta ancora cercando sarebbe un grandissimo regalo che potrebbe fare di agobinto al grandissimo mister josè e non sarà facile trattare con l'arsenal lo sappiamo quanto sia dura però un tentativo ci si può fare infatti sembra che e roma e arsenal in questa situazione abbiano già trovato l'accordo ma dipende tutto da un fattore dipende da diavara perché se dovesse partire a madù la roma sarebbe già accordata con l'arsenal quindi l'arsenal sicuramente ha già trovato un sostituto e la roma potrebbe beneficiare di questo di questo acquisto però diavara deve andarsene entro questi due tre giorni che rimangono alla fine del calcio mercato per poi prendere granit a madù che a diavara che ha molte molte offerte il giocatore che comunque anche se la roma non trova spazio in squadre come in all'estero diciamo anche se non è nei top 5 campioni europei a molte richieste dove lui ne ha rifiutate ne ha rifiutate ne ha rifiutate veramente mettendoci in condizioni gravi però sembra essere intenzionato ora non mi ricordo a quale club di poter partire dalla roma e quindi granicciata ora sembra addirittura che ci sia sia l'accordo tra la compagine inglese che la roma e ovviamente tra giocatore e la roma perché comunque lo sappiamo che lui vuole venire da morigno già voleva quest'estate in realtà lui poi però l'arsenal diciamo e sulla base dell'accordo non è riuscita a darcelo praticamente e parlando un po di cifre diciamo che l'arsenal chiare comunque i soliti 20 milioni che comunque se se consideriamo che amadù diavara potrebbe partire alcuni soldi entreranno nelle casse giallorosse e quindi si potrebbe fare questo sacrificio per portare a morigno giocatore molto 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 funzionale che secondo me potrebbe far bene anche perché se a parte che in questa stagione e ha avuto un infortunio importante infatti ha totalizzato solamente 10 presenze di cui alcune dalla panchina non è riuscita a trovare la sua miglior condizione sicuramente in in quest'anno però comunque è tornato dall'infortunio sicuramente può ora riprendere minuti con la roma magari potrebbe essere il titolare e lo sappiamo lo sappiamo quanto potrà essere importante questo acquisto perché se noi andiamo a vedere la realtà dei fatti da roma centrocampo a diavara quindi togliamo diavara perché se viene il ciaga parte diavara quindi partiamo da questo presupposto avremo e darbo che comunque non gioca mai non è considerato da josé murigno e quindi il manco consideriamolo quindi di giocatori che diciamo stanno giocando e sono nel progetto solo pellegrini verre tu cristante sergio libeira e mkhitaryan che ormai sta giocando nei tre di centrocampo e poi ci sarebbe bove che comunque se vogliamo lo consideriamo ma no perché parliamo dei cinque titolari diciamo di più i due che subentrano praticamente a partire in corso e c'è metal knights che comunque potrebbe fare il jolly tra tersino destro e mediano centrocampista quindi e darsi via diavara e prendere uno come ciaga permetterebbe di avere un centrocampo uno dei più forti in italia uno dei più forti in italia ma non sotto l'aspetto proprio dei tre titolari no perché non è che sono fenomeni ma sono giocatori comunque importanti se dovesse arrivare xaga che secondo me giocherebbe al fianco di pellegrini e sergio ribeira è un giocatore molto molto di grinta è vero prende anche molti cartellini gialli infatti ha molte molte squalifiche sempre nel corso delle stagioni e con molti cartellini gialli quindi molti e molte volte rifidato prende anche cartellini rossi cosa che magari in serie a deve un po essere più più calmo se così vogliamo perché lo sappiamo anche quanto siano severi gli arbitri in italia quindi deve comunque murigno fargli capire ciò anche se non ha bisogno di spiegazioni o comunque un giocatore di grande esperienza anche a livello internazionale e cattivo cattivo sull'uomo è a buoni piedi e sicuramente non è neanche troppo lento non è altissimo però comunque ha le sue caratteristiche che fanno bene fanno bene e secondo me al fianco di pedegrini e sergio ribeira potrebbe fare grandissime cose e secondo me la roma diventerebbe una delle più come dire delle più complete a centro campo della serie a se non la più completa magari dopo l'inter che secondo me è una rosa inarrivabile veramente però secondo me con questo acquisto josé josé non avrebbe più scusanti non avrebbe proprio più alibi perché secondo me con l'acquisto di xaga la roma passerebbe a un voto praticamente di otto anche di più nove in questo calcio mercato perché diavopinto ci avrebbe portato xaga che è un giocatore veramente forte un giocatore che conosce murigno che lo vuole quindi sarebbe una una richiesta di murigno comunque consegnata al mittente comunque gli avrebbe gli darebbe tanta tanta roba nelle mani e volontà che di volere il calciatore gli ha comprato sergio liveira che già murigno ha detto che era un acquisto in quel momento inaspettato ed è giocatore che sta dimostrando di essere veramente superiore agli altri a livello a livello di di testa a livello proprio anche tecnicamente e sta trascinando la roma in queste partite dall'arrivo e comunque metral niles che è un ottimo sostituto un giocatore che può giocare sia sulla mediana e può giocare anche sulla fascia destra quindi murigno se dovesse arrivare xaga non avrebbe veramente più scuse perché sarebbe un grandissimo calcio mercato da rosa sarebbe comunque lunga e io penso che si potrebbe ambire a posizioni più alte con l'acquisto è con questo acquisto è un giocatore che mi piace e speriamo che sia la volta buona per portarlo a roma anche perché prenderlo a fine anno so che comunque non è che sei mesi in più cambia non ho la questione età però comunque già ora 29 anni in più se lo prendi comunque e ora e ti farebbe tutti questi mesi bene magari al top per poi comunque anche fare l'anno prossimo l'anno dopo ancora magari però magari prenderlo a in estate e diciamo non ti aiuterebbe intanto in questo arco di tempo per provare ad ambire almeno l'europa league e comunque avvicinarsi alla champions league che è il principale obiettivo che secondo me però sarà molto 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 dura e secondo me però ve lo dico se la roma prende chagà deve 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 lottare per la champions perché avrebbe una rosa di tutto rispetto anche tra le panchina anche tra la panchina per questo video è tutto fatemi sapere la vostra qua sotto e noi ci vediamo alla prossima ciao